Ciao a tutti, dopo le vacanze in Italia sono andata a farmi in Baviera e quindi questi saranno i video sulle tappe accessibili al di fuori dell'Italia Allora, prima però di arrivare in Baviera siamo passati dalla Svizzera per forza e sono andata in auto e la prima tappa sono state cascate del Reno sono rimaste un po' male nel senso sicuramente c'erano la polizia svizzera, svizzera e quant'altro a indicare dove fosse il parcheggio per le cascate del Reno era tardi, siamo arrivati che erano più o meno il pomeriggio e ci hanno fatto parcheggiare subito al primo posto però non c'era nessun posto di isabili comunque il parcheggio era tutto in pianura, nel prato, poi c'è tutta una strada asfaltata in discesa che fa raggiungere senza nessuna barriera architettonica l'ingresso delle cascate lì c'è un altro parcheggio molto grande ma con solo due posti di isabili sono rimasta un po' interdetta perché mi sembrano veramente pochi però ripeto, tutto era accessibile e quindi non ci sono stati problemi anche per quanto riguarda le cascate del Reno sono accessibili si può accedere tramite, bisogna comunque pagare un biglietto ma il disabile non paga, è gratuito tramite una scalinata molto carina nel bosco oppure si può accedere dall'ingresso del castello con un ascensore panoramico tutto a vetri anche i normodotati possono usufruirne ovviamente dove si arriva proprio al bel vedere delle cascate per prendere il battello dal versante in cui l'ho visto io non era possibile prenderlo però non mi interessava e sinceramente non sono stata per quel tanto a guardare invece sono tornata poi viste le cascate a panorama siamo tornati indietro usciti dall'ingresso del castello e proprio c'è un cartello con i segnali di percorso in sedia a rotelle è possibile quindi passare sopra un ponte che è anche pedonale oltre che ciclabile eccetera che permette di attraversare il fiume Reno e andare dall'altro lato dove una bellissima passeggiata tutta asfaltata senza nessun problema porta a vedere le cascate dall'altro lato l'unico problema è che essendo comunque una passeggiata in mezzo al bosco le radici degli alberi hanno creato dei dislivelli in questo asfalto e quindi bisogna un attimo stare attenti a quello però basta andare a raggio ecco forse io vado un po' troppo veloce e quindi diciamo cascate da Reno promosse ma grande dubbio sul parcheggio vedremo e dopo le cascate da Reno proseguito verso Monaco ciao